Cari amici, con questo podcast di oggi rispondo al post fatto dal professor Mora sul suo gruppo Facebook, gruppo sul quale sono stato definito un impostore, un personaggio di scarsissimo livello intellettuale, tanto che ho dovuto minacciare querele per diffamazione, visto il bullismo e il pestaggio, a cui di solito sono abituati i presunti tradizionalisti, che non sono tradizionalisti, ma sono un'altra cosa. Ora, io personalmente ho simpatia per il professor Mora, ho anche stima per lui perché ha preso delle posizioni difficili come docente in classe, quindi chapeau, già in tempi non sospetti gli avevo espresso la mia solidarietà e penso che sia una brava persona e buona fede, però non posso non constatare la difficoltà nell'articolare un discorso razionale. Durante il nostro dibattito lui mi ha fatto un'obiezione, dice, vabbè, ammettiamo che abbia ragione lei, ammettiamo che adesso si tolga di mezzo Bergoglio, si vada a un conclave pre-2013, ma chi ci dice che non venga eletto un papa modernista? Allora, innanzitutto sarebbe opportuno avere un papa. Prima cosa, sarebbe opportuno avere un papa regolare, assistito allo Spirito Santo, col munus petrino, eccetera. Ora, io penso che in ottica di fede un cristiano dovrebbe abbandonarsi alla divina volontà, no? Se per un certo periodo Domine Dio ha consentito papi che fossero personalmente peccatori, viziosi, eccetera, e che in una certa fase fossero anche, avessero sfiorato l'eresia, come appenne per Giovanni XXII, o come per Papa Onorio I, o magari anche alcune questioni che riguardano i papi del postconcilio, che vengono attaccati continuamente, per questioni che poi ridotte e comprese nel merito vengono poi sgonfiate. Per esempio, una delle contestazioni che veniva fatta a Papa Benedetto è perché avesse tolto la tiara pontificia dallo stemma, no? Si è capito dopo, dopo la questione della sede impedita, che lui fin dall'inizio si era preparato per portarsi nella tomba le insegne araldiche da pontefice. È chiaro che se avesse adottato fin dall'inizio una tiara pontificia, sarebbe stato costretto a cambiare il proprio stemma, e invece con l'innocua mitria vescovile ha consentito a se stesso di rimantenere il proprio stemma integro e intatto, e allo stesso tempo ha evitato che Bergoglio usurpasse il simbolo dei veri papi. Quindi abbiamo parlato anche della questione del nuovo ordine mondiale di Benedetto XVI, spacciata da Monsignor Viganò per un ammiccamento ai poteri forti mondialisti, perché? Perché Napolitano dopo qualche settimana aveva fatto riferimento al discorso di Benedetto XVI, utilizzando la propria figlia. Allora era colpa di Ratzinger. Poi tra l'altro qualcuno mi dovrebbe ancora spiegare come potrebbe essere il nuovo ordine mondiale dei massoni satanisti, quello che prende per mano il bambino di Betlemè. Ma vabbè, lasciamo stare. Entriamo nel merito del post del professor Mora, che evidentemente si è irritato per i miei ultimi podcast, riferiti al fatto che il mondo tradizionalista in modo totale evita qualsiasi proposta costruttiva per rimuovere Bergoglio. Cioè, tu gli dici, guarda, si potrebbe fare così, si potrebbe fare la cuma postolato ufficio, il papa eretico non va bene, la sede è impedita, guarda, Benedetto non ha abdicato, guarda che neanche pare che abbia il certificato di diaconato. Cioè, si fanno un sacco di proposte per cercare di metterlo in impeachment, ma loro ti oppongono muri su muri, come l'ultima lettera di Mozzino Schneider, che in modo molto intelligente e furbesco, che cosa fa? Dice, ah no, ma il papa eretico non lo si può far decadere, neanche un conclave irregolare, evitando in modo chirurgico di parlare della sede impedita di papa Benedetto. Allora, arrivati al 2023, dopo tre anni in cui abbiamo cercato di sollecitare in tutti i modi Monsignor Viganò, Monsignor Schneider e gli altri a fare mente locale sul dato oggettivo dimostrato oltre ogni ridondanza della sede impedita di papa Benedetto, senza neanche aver ricevuto il loro interesse, uno si fa un dubbio, dice, ma scusate, ma da che parte state? E quindi il professor Mora cerca, in maniera, devo dire, abbastanza modesta, di ribaltare contro di me l'accusa di gatekeeper e comincia subito con una calunnia, perché scrive Se fossi Orghe Mario Bergoglio, un esponente del suo cerchio magico, e dovessi scegliermi degli oppositori, non avrei dubbi nel puntare sulla coppia John C. Nutella. E beh, certo. Sono proprio quelli che mi mettono in discussione come papa, sicuramente, no? Infatti, perché Don Minutella è stato scomunicato, ridotto allo stato laicale, mentre Monsignor Viganò non gli hanno fatto neanche la multa per aver lasciato la macchina in seconda fila? Eh? Per quale motivo, professor Mora? Il non credente Andrea Cionci. Ecco, qui subito entriamo nella... in apprezzamenti gratuiti e scevri da ogni pezza d'appoggio, perché io ho sempre detto che l'approccio della mia inchiesta è live. E ho sempre detto, lo testimoniano tutti i miei podcast, ho sempre detto che non voglio esplicitare in pubblico se sono credente o non credente, perché il lavoro di un giornalista non è questo. E perché qualunque cosa dicessi sarebbe rivolta contro di me. Se dicessi che sono credente, ah, vedi il pigotto tradizionalista che odia il buon papa Francesco. Se dicessi che sono ateo, ah, vedi, Cionci ateo. Come si permette di parlare di cose di fede? E quindi io non ho mai esplicitato le mie credenze personali, e quindi quello che dice il professor Mora è sbagliato, e anzi lo pregherei di correggerlo, perché Cionci non ha mai detto in pubblico se è credente o non credente. E quindi lui mi affibbia una etichetta in modo del tutto gratuito. Il non credente Andrea Cionci e il credente Don Minutella fingono un radicalismo assoluto che nasconde come uno specchietto per le allodole la completa complicità con la deriva bergogliana su ciò che più conta, i principi. E sapete qual è questa deriva bergogliana? Dice, i principi neomodernisti e vatican secondisti della libertà religiosa, della separazione tra Stato e Chiesa, dell'ecumenismo folle, dell'antropocentrismo radicale che li sottintendono, non vengono mai messi in discussione né dal non credente Cionci né dal credente Minutella. Essi non difendono mai l'autentica tradizione. Bene, caro professor Mora, un altro passo falso, perché io già nel 2021 ho pubblicato un articolo sul libro intitolato L'algoritmo di Gesù. Il cattolicesimo è un sistema matematico come suggerisce la natura. In questo articolo, di cui ho pubblicato un podcast all'altro giorno, addirittura arrivavo a teorizzare una perfetta legge matematica di corrispondenza tra parola e tradizione parlando appunto di un algoritmo a dimensione frattale. Ho sempre scritto, anche in altri articoli che adesso non ho sotto mano, ma che posso produrle, che il cattolicesimo o è tradizionalista o non è. Cioè, o è tradizionale e non tradizionalista, perché siete voi tradizionalisti e come tutti gli ismi c'è una sclerotizzazione ideologica della tradizione. La tradizione è lo sviluppo vivo, coerente e armonico della parola. È questo che io ho esplicitato già nel 2021 nell'articolo che l'ho appena citato, quindi anche in questo caso sta dicendo una cosa falsa, perché io ho difeso in modo totale la tradizione. In modo totale. Non ho difeso i merletti come fate voi, ho difeso il contenuto della tradizione. Peraltro in diversi articoli precedenti, carta canta, mi dispiace, mi dispiace caro professor Mora, lei purtroppo non mi segue abbastanza e quindi poi prende le caltonate. Ecco, per esempio, nell'articolo da me pubblicato sul Libero, Benedetto XVI scrive Il concilio ebbe potere positivo per la purificazione finale del 25 ottobre 2022, io scrivo testualmente che si trattava di una fase necessaria, il concilio, l'inizio di una pur brutta infezione che avrebbe prodotto un ascesso nel quale scoppiando avrebbe purificato finalmente la Chiesa. Quindi, come vede, io ho avuto parole durissime con il concilio, verso il concilio e sono molto più avanti di voi, molto più avanti di voi, perché, per esempio, come potrà constatare nei miei podcast dedicati al libro di Don Daniele di Sorco, Parole chiare sulla Chiesa, lui parla dell'ingresso dell'agnosticismo con il concilio, io invece parlo esplicitamente dell'ingresso dell'agnosi, dell'ognosticismo, del satanismo, altro che agnosticismo, altro che agnosticismo, io sono stato quello che ha fatto le indagini sulla ruggiata, che era stata già inserita nel messale latino di Paolo VI, che ha scoperto che era il nettare di Rosa Croce, io sono stato quello che ha fatto le ricerche sulle pseudomarie di Bergoglio, eccetera, eccetera. Chiaramente, ho sempre denunciato il fatto che queste aggressioni alla vera fede hanno preso il via, diciamo che erano latenti, perché il modernismo è qualcosa di latente da un pezzo, hanno preso il via con il concilio e poi sono arrivate a maturazione con Bergoglio. Io sono stato quello che ha denunciato che cosa c'è dietro l'icona della Salus pubblica popoli romani che è stata ribattezzata dai gesuiti nell'Ottocento, molto prima del concilio, molto prima del concilio, è stata ribattezzata con il nome della grande madre dei romani che dava da mangiare al serpente. Quindi voi, cari tradizionalisti, non potete insegnarmi proprio niente in merito all'attacco contro il concilio. D'accordo? Ecco. Io dico un'altra cosa, io dico cose oggettive, che il concilio ha privato i papi, lo scrivo anche in Codice Ratzinger, privato i papi di gran parte del loro potere delegandoli alle conferenze episcopali e delegandoli al segretario di Stato. Ecco perché si spiega come mai i papi postconciliari poi siano stati costretti a divenire a certi concomessi perché non erano più i sovrani rinascimentali che voi stessi continuate a pensare. Ecco, diciamo, è emblematico il fatto che proprio Monsignor Fellè dalla San Pio X avesse chiesto a Benedetto XVI appena insediato dicendogli ma scusi, lei è il papa, perché non interviene col pugno di ferro? Il papa Benedetto gli rispose la mia autorità finisce alla soglia di questa stanza. Ecco, voi continuate a vivere nel mondo di merletti, candele e cappemagni e pensate di vivere ancora sotto Giulio II ma i tempi sono cambiati con il concilio e stupisce che proprio voi non abbiate compreso come il potere dei pontefici sia stato radicalmente ridimensionato per colpa del concilio e poi dice Cionci che fa pesanti insinuazioni contro Monsignor Viganò la San Pio X e il mondo tradizionalista ora le ricordo caro professor che io a Monsignor Viganò ho mandato centinaia di articoli lettere aperte podcast appelli filiali ho cercato di farlo contattare da altre persone gli ho mandato il libro e lui non ha mai neanche preso in considerazione l'unica proposta operativa l'unica proposta operativa perché se lei avrà la bontà di andare a vedere l'Universi Dominici Gregis all'articolo 7677 c'è scritto che la vacanza della sede deve avvenire a norma del cano 332.2 d'accordo ora vai a vedere il cano 332 e dice nel caso che il Papa rinuncia al Monsignor quindi l'oggetto della rinuncia è il Monsignor Papa Benedetto ha rinunciato al Monsignor no allora mentre voi vi trastullate a parlare male dei concili a parlare male dei papi postconciliari io vi ho tracciato l'unica soluzione possibile magari non sarà funzionale ma è l'unica soluzione possibile perché le altre non sono praticabili e ve l'ha spiegato benissimo il vostro Monsignor Schneider perché il Papa eretico non ha nessuna giurisprudenza per essere deposto se ci sono state delle irregolarità nel conclave queste possono essere sanate dalla accettazione pacifica universale quindi o vi attaccate alla sede impedita di Benedetto XVI oppure mi perdoni la scivolata vi attaccate al tram nel senso che non ci sono altre possibilità o tentate di perseguire la strada canonica tracciata dalla Universi Dominici Gregis oppure non potete fare niente e vi dovete tenere Bergoglio e vi dovete tenere la chiesa finita e ancora un errore del professor Martino Mora dice per eleggere un nuovo Papa ma senza rivolgersi mai ai cardinali gli unici che potrebbero farlo che sarebbe comunque un modernista allora lei sta dicendo a me che sono l'unico che non si rivolge ai cardinali bene io ho pubblicato delle lettere aperte al cardinale Muller al Monsignor Schneider diverse a Monsignor Viganò una persino a Monsignor Fisichella e ho promosso attraverso i miei canali social la cosiddetta Operazione Vescovi che cos'è l'Operazione Vescovi? L'Operazione Vescovi è stata una meravigliosa pagina eroica dei veri cattolici non voi dei veri cattolici che hanno comprato Codice Ratzinger e hanno mandato questo libro a 250 tra vescovi e cardinali e io ho raccolto tutte le ricevute con ritenuta di ritorno e io sono di diverse settimane che sto mandando tramite segreteria di Stato delle informative complete a diversi cardinali è diverso tempo che cerco di farmi ricevere dei cardinali che oppongono un muro di indifferenza e adesso visto che lei ci stimola faremo una petizione pubblica che è in agenda ora lei mi rivolge questa accusa che non mi sono mai rivolto ai cardinali ma se lei prende l'articolo lettera ai cattoconservatori come il latino di Papa Ratzinger ha sistemato Bergoglio indirizzata alla cortese attenzione di sua eccellenza Monsignor Carlo Maria Viganò Monsignor Schneider Monsignor Bux Don Livio Fanzaga Roberto De Mattei Stefano Fontana Francesco Lamedola Enrico Maria Radelli Massimo Viglione Riccardo Cacioli Aldo Maria Valli Tosatti Boffi Ruini Bertocchi Paciola non ho inserito lei caro professor Mora mi dispiace perché in questa lettera in cui io ho esplicitato la traduzione corretta della declaratio dal latino ho fatto un appello a tutte le persone appena citate dicendo che l'unica cosa sulla quale non siamo d'accordo siamo d'accordo è che non siamo d'accordo quindi leggo siamo quindi a chiedervi pubblicamente se volete perorare e sostenere questa istanza presso il collegio Cardinalizio pre-2013 per la salvezza della chiesa e la sicurezza della nostra nazione ha capito professor Mora io ho chiesto a tutte le persone di qui sopra tra cui Monsignor Viganò eccetera eccetera che pure hanno delle opinioni contrari eccetera dicendo scusate sono dieci anni che stiamo parlando della della declarazione di Papa Benedetto vogliamo rivolgerci tutti insieme ai cardinali per chiedere una chiarificazione siamo quindi a chiedervi pubblicamente io sono stato a chiedere a Monsignor Viganò Schneider Monsignor Bux Valli eccetera e tutti gli amici suoi se volevano per orare e sostenere insieme a me l'istanza per un'inchiesta canonica presso il collegio cardinalizio pre-2013 per la salvezza della chiesa e la sicurezza della nostra nazione ha risposto qualcuno? no no mi dispiace professor mi dispiace io sono stato quello che ha cercato di coinvolgervi perché tutti insieme chiedessimo ai cardinali una un'inchiesta canonica una chiarificazione e voi mi avete chiuso la porta in faccia e quindi per questo io poi ho continuato a mandare podcast cortesi cordiali amichevoli dicendo caro professor viglione caro Aldo Mariavalli potereste gentilmente prendere in esame questa cosa non mi ha risposto nessuno mi hanno dato dello psicotico dell'imbecine del pazzo del massone del pituita eccetera non mi ha risposto nessuno quindi anche questa se la poteva risparmiare professor Mora allora il grande inganno vatican secondista papolatrico e santo subitista che la condanna finché cionce e minutella non riconosceranno i falsi principi del vatican secondismo saranno soltanto l'opposizione di sua maestà che fingendo di morderla fa solo il solletico alla mafia di Sacano ma una affermazione del tutto priva di fondamento perché noi attacchiamo anche se non abbiamo ancora fatto una petizione ufficiale pubblica ai cardinali cosa che faremo senza di voi la faremo senza di voi che continuate a parlare del passato di roba di 60 anni fa non si capisce che cosa avrebbe di costruttivo scusi ma voglio dire allora la difficoltà enorme di far capire come uscire dalla situazione è cercare di far capire che Benedetto XVI e Giovanni Paolo II hanno messo in pratica un piano anti usurpazione che ci consente di uscire oggi dall'impasse e di mandar via non solo Bergoglio ma anche tutte le propaggini che sono figlie di quel concilio che voi detestate tanto ora non si riesce a capire in base a quale logica strategica uno mentre cerca di far capire il piano perfetto meraviglioso che hanno adottato questi due papi dovrebbe anche sputarci sopra per far contenti voi per far contenti allora noi dovremmo sputare su Benedetto XVI per avere il vostro appoggio no grazie no grazie andremo avanti da soli perché Papa Benedetto ha cucinato anche voi farisei tradizionalisti i sepolcri imbiancati che filtrano il moscerino del bacetto al Corano e ingoiano il cammello di Bergoglio e fanno le messe in vetus sordo in comunione con Bergoglio perché Bergoglio si è comprato con un casco di banale la Sampio X concedendo loro il diritto di celebrare i matrimoni le messe e le confessioni e quindi oggi la Sampio X per bocca del Don Daniele di Sorco difende la legittimità di Bergoglio e disinnesca il piano di usurpazione di Benedetto XVI quindi mi dispiace ma il suo tentativo di far passare me e Don Minutella come i veri gatekeeper è qualcosa di diciamo completamente illogico irrazionale le ho dimostrato che io ho scritto malissimo del concilio ho perorato la tradizione fornendo addirittura delle proposte scientifiche cercando di apparentarle appunto a un algoritmo matematico scusate se non ho sputato su San Giovanni Paolo II o su Benedetto XVI scusatemi la prossima volta allora per farvi contenti dirò che il nuovo ordine mondiale che prende per mano il bambino di Betlemme era il nuovo ordine mondiale satarista e anzi mi iscrivo alla newsletter di Chiesa Viva che dice che Benedetto XVI era massone e tutte queste cose qua così vi facciamo con te no guardi professor Mora mi dispiace ci rincontriamo in una prossima vita ecco così adesso potete dire che pure credo nella reincarnazione sarà per la prossima volta sarà per il prossimo Papa impedito eh possiamo fare a meno di voi che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello e che soprattutto opponete muri di muri di gomma a qualsiasi proposta operativa ripeto il paragone che ho fatto l'altro giorno è come se uno dicesse beh oggi per colpire la mafia per stroncarla bisogna arrestare questi capi cosca bisogna confiscare i loro beni fare delle retate eccetera e dall'altra parte ti trovi della gente che dice eh no ma è tutta colpa dell'unità d'Italia perché i Savoia poi con la coscrizione obbligatoria dei contadini meridionali li hanno portati a essere briganti e quindi da lì è nata allora come analisi storica ci sta va bene eccetera però poi quando uno insiste e cerca di farvi capire sì d'accordo la storia è andata così va bene tutto a posto eccetera però adesso passiamo un attimo a una fase operativa la fase operativa è che bisogna arrestare questo questo e quest'altro e voi continuate a dire ah no ma è stata colpa dei Savoia perché il generale Cialdini ha fucilato i briganti eccetera capite allora è questo il che cioè qualsiasi proposta operativa che viene fatta eh qualsiasi proposta nel senso di dai tutti insieme facciamo una una petizione ai cardinali perché intervengano viene lasciata cadere nel vuoto avete lasciato cadere nel vuoto qualsiasi nostra proposta risolutiva operativa ma noi andremo avanti da soli anzi colgo il suo input proprio per andare avanti su questa strada e organizzare una petizione pubblica al collegio cardinalizio mi dispiace siete voi quelli che remano contro perché il vicario di Gesù Cristo che vi piaccia o meno modernista tradizionalista quello che è comunque era lui era benedetto sedicesimo perché noi abbiamo a differenza vostra il concetto del primato del del pontefice allora se sei papa puoi essere puoi anche fare degli errori puoi anche sfiorare l'eresia ma sei sempre papa d'accordo ecco per esempio perché voi non ve la prendete con Pio VII chiaramonti che ha ripristinato la compagnia di Gesù dopo che Clemente XIV l'aveva abolita perché non fate le pulci a Pio VII chiaramonti oppure perché non attaccate Pio IX perché ha detto al generale kansler praticamente di arrendersi no perché visto che voi fate meglio del papa e siete più papisti del papa e siete più assistita dallo spirito santo del pontefice perché non andate a fare le pulci anche ai papi del passato e ve la prendete solo con Giovanni Paolo II e con Benedetto XVI è qualcosa di suicida no? nel momento in cui Voitila e Benedetto XVI vi hanno messo a disposizione piano per liberarvi per far saltare tutto per aria no no bisogna continuare a sputarli addosso tra l'altro tra l'altro accusate me che ho avvertito personalmente 250 cardinali di non avvertire i cardinali accusate me di non rivolgermi ai cardinali nel momento in cui vi ho ufficialmente a mezzo stampa cercato di coinvolgervi tutti insieme per un'inchiesta canonica e voi neanche avete avuto l'educazione di rispondere proprio a me rivolgete queste accuse mi sembra abbastanza ridicolo no? allora noi vi lasciamo al vostro piagnisteo sul latte versato e vi lasciamo alla costruzione di una macchina del tempo così tornate indietro al 62 andate a dire a Giovanni XXIII di non convocare il concilio vi lasciamo con le vostre pseudomesse con candele merletti reliquiari carte glorie celebrazione in latino però in comunione non si sa con chi con il fantasma formaggino e noi cerchiamo di mobilitare l'aeronautica per gridare al mondo l'unica cosa che conta cioè che Benedetto XVI non ha mai abdicato e che quindi Bergoglio non è mai stato papa ecco questa è la mia risposta cari amici vi aspetto domani al Casale San Nicola a Roma sono ben accolti tutti i tradizionalisti che vogliano intervenire però per favore se volete venire cercate di fare proposte per il futuro perché io la macchina del tempo non l'ho inventata se l'avete inventata voi tiratela fuori uscite il progetto della macchina del tempo così proviamo a fare un percorso a ritroso e ad andare da Giovanni XXIII ma a dirgli di non convocare il concito se volete intervenire fate delle proposte fattive per il futuro ricordando quello che fa parte della vera tradizione cattolica non del tradizionalismo che come tutti gli ismi è una sclerotizzazione ideologica nella tradizione cattolica da duemila anni ci si divide fra i seguaci del papa e i seguaci dell'antipapa noi siamo con il papa benedetto sedicesimo e denunciamo la sede vacante dichiarata dal 31 dicembre 2022 la San Pio X fa le messe in comunione con Bergoglio è stretto contatto con Bergoglio scrive i libri per difendere la legittimità di Bergoglio punto caro professor Mora voi state con Bergoglio noi stiamo con il vero papa benedetto sedicesimo modernista tradizionalista quello che è pur sempre papa e non tutti i papi vengono col buco come le ciambelle qualcuno sarà stato più o meno bravo più o meno ortodosso qualcuno magari avrà anche sfiorato l'eresia eccetera eccetera ma erano pur sempre papi noi abbiamo questo concetto che fa parte della tradizione cattolica veramente che è quello del riconoscimento del primato di Pietro e della successione Petrina secondo regole dinastiche assolutamente assolutamente certe un caro saluto a tutti e un caro saluto definitivo al professor Mora grazie a tutti grazie a tutti